Contro la Lube c'è sempre stata una bella sfida con noi, ce l'hanno sempre giocata, loro sono sempre stati dei super big, ridagli là indietro non è male, è una bella sensazione. Niccolò va a portare! È out! È out! Monza fa l'impresa! Eh sì, questa è effettivamente la prima Final Four di Coppa Italia per il loro volley, ci abbiamo provato parecchie volte, tante volte siamo andati molto vicino, molto molto vicino. È capitato una partita che penso che la ricordavano tutti contro la Lube di parecchi anni fa, un 14-11 per noi al tie-break, che poi non siamo riusciti a portare a casa, quindi quella ci è rimasta abbastanza qui. Quest'anno ho sempre contro la Lube, invece Dalia l'ha restituita e non so cosa c'è di diverso, sicuramente si cresce, si cresce con gli anni, si cresce con le squadre, siamo forse la migliore squadra che c'è stata al consorzio fino adesso. Perfettivamente, sì, è stata la seconda. Sia a Perugia, avevamo questa semifinale contro Trento e no, niente, non è andata bene, abbiamo perso, quell'anno eravamo una bella squadra. Guarda, se questa qua deve essere la nostra rivista, ben volentieri. È la mia più che altra, perché sono l'unico di quella squadra. Quindi secondo me è una delle competizioni più belle che ci sono, la Final Four, tutti lì, tutti insieme, dall'hotel fino alla palestra condivisa con quattro squadre fortissime, quindi non c'è bisogno di motivare più di tanto, perché tanto siamo tutti belli gasati e carichi da questa cosa. Penso che già soltanto essere lì ti dà quella spinta di saltare 20 centimetri in più che faresti normalmente. quindi non si molla. Trento è una squadra che non mollerà mai e noi non molleremo mai. Fino alla fine vediamo chi la spunta.